Non ha mai fatto capire in casa che lui si era messo di nuovo nella politica. Mi dava delle lettere, dei pacchi da portare dal fiume. Io andavo, me li portava da un'altra parte, io andavo, ma non sapevo di che si trattava. Antonio Banfo, l'operaio con la Bibbia in mano. Tra poco a protestantesimo.